Non risponde alla richiesta d'incontro, però vedo che è rimasto affascinato dalla nostra città. Evidentemente avrà capito in questi cinque anni, con tanto entusiasmo, con tanta passione, senza soldi, nonostante tutto e con i tanti ostacoli, questa città si sta riscattando ed è sempre più bella e noi vogliamo che lo possa essere sempre di più. Con il nostro impegno anche nei prossimi cinque anni e con l'impegno di tutti i napoletani.